Sono le 12 e 30 dell'11 dicembre 2023. Allora, questo è il sentiero che ci troviamo sul Monte Pen, da circa mezzo chilometro. De via verso ovest si congiunge con la strada della Cunicella. Questo è un albero di noce. Adesso guardate dove vi conduco. Ecco, allora, qui 50 anni fa qua non c'era un albero. Erano tutti terreni coltivati. C'erano molte vegne, adesso tutti in abbandono. Comunque il panorama è suggestivo, ingandevole e soprattutto salutare. Adesso c'è una serie di sentieri. Certo, qui è facile sbagliare ed inoltrarsi altrove. C'è un sentiero qui e un altro che deve via da questa parte. Vediamo un po'. Sì, gira e lì gira. Ecco qui il sentiero. Io proseguo, proseguo e vediamo dove conduce questo sentiero. Qui improvvisamente si ricongiunge. Qui c'erano tutti muri a pierre, antichi terrazzamenti, vedete? Continuo a salire e guardate dove vi conduco. Io ho, sì, io ho il senso dell'orientamento e quando vado da una parte mi c'eraccapezzo, sì. Vedete? Si attraversa, attraversa. Ecco qui, guardate la montagna come è misteriosa. Ma bisogna conoscerla. Non è indicato per chi non conosce la montagna. Grazie. Grazie.